Sì, guardate che partita sotrana in squadra. Ma che cavolo è tutti contro uno? Quel GV Panther, no, quel GV Tiger P si crede di essere così forte. Cioè, sparo un colpo ogni 40-50 secondi. Senti, io vado alla c***o bomba. Eh certo, anch'io. Io voglio rammarli tutti, non voglio manco sparare. Dove sei? Nel mezzo. Bene, bene. Bene ragazzi. La partita è iniziata. Vi do lampo così. Chissà se faremo cosa che provate in diretta. Allora. Voi come volete, una rammata proprio fronte fronte. Vieni. Ma che avvicini? Arrivo io, arrivo io. No, no. No, che me li rupe tutti. Anche loro sono dell'idea di rammarli. Ora mi vuoi lasciare i Tiger P e mi metto a piangere. Sì, anche a me. Anche perché io non c'ho ancora il colpo in canna. Nemmeno io. Cazzo, guarda lì. Muoviti. Oh. Ma che c***o? No, no. Li ho uccisi tutti. Li ho uccisi tutti lui. Ma che c***o? Ma che c***o? Grande ragazzi. Grande. La partita finisce subito qua. Una battaglia di squadra veramente è la c***o di cane. Pugno d'acciaio ho preso. Però ho preso un pugno d'acciaio anch'io. Minchia. Grande. Cioè, non so. Cioè, quando lì ho guadagnato 12.000. Ma va bene così? Sì. Bene ragazzi. Ottimo. Spero che questo video lampo vi sia piaciuto. Sì. Alla prossima. Ciao ciao.